Nonostante la mia allegrissima e direi anche splendida camicia hawaiana, se stai ascoltando il podcast in versione solo audio sappi che ti stai perdendo una cosa meravigliosa, in questo caldissimo e affoso sabato di luglio, mi auguro per te che dalle tue parti si sta meglio che ad Alessandria, voglio parlarti di un argomento che non è gioioso e non è allegro, ma anzi ha un certo spessore. Ovvero di cosa significa vivere da Karateka e per farlo ci faremo aiutare da una persona prestigiosa nel nostro ambito, una persona che tutti conoscono e qualche volta qualcuno guarda anche un po' storto ma poverino, probabilmente non hanno ben idea di tutto quello che ha fatto. Il nostro carissimo G-Chin Funakoshi. Popolo dei Karateka liberi, alla via! Levate l'ancora, spiegate le vele e insate bandiera nera. Questo è Pirati del Karate! Sono Pirato del Karate! Sono Pirato del Karate! Sono Pirata del Karate! Sono Pirato del Karate! Sono un Pirata del Karate! Sabato 20 luglio, ore 13, ora da piscina, giornata da piscina. Qua si stanno squagliando le pietre, voi non sapete, io che caldo ho chiuso nel mio quartiere generale. pirata, lontano dagli occhi indiscreti dei poteri forti, mi sto sciogliendo c'è il ventilatore che va, spero che non entri nel microfono sarei potuto andare da qualche altra parte? Sì, ma vi avrei abbandonato e non me lo sarei mai potuto permettere e quindi eccomi qui con una nuova puntata del nostro podcast Pirati del Karate, il podcast dedicato a voi, Karateca Liberi Karateca Ribelli, che volete tornare a praticare un Karate un po' più semplice più autentico, lontano da tutte quelle dinamiche orribili federali, dei poteri forti appunto della nostra disciplina che secondo noi la stanno un po' rovinando io sono Eugenio Credidio eletto da voi Sensei Eugenio vostro capitano e baluardo nell'oscurità sarà, e questo è il nostro podcast dal quartier generale della nostra Repubblica indipendente dei Pirati del Karate che ha due sedi, una ad Alessandria al Dojo Shinsui e una online virtuale, il sito del Dojo Shinsui. Oggi parliamo di cosa vuol essere cosa vuol dire vivere da Karateca quindi argomento insomma un pistolotto filosofico oggi ci facciamo però è un argomento a cui tengo molto e che spesso mi trovo ad affrontare soprattutto con i bambini e con i ragazzi un po' più giovani perché beh perché l'età lo richiede probabilmente, ma prima di iniziare come al solito le coordinate ricordatevi che questo è un podcast interattivo io lo faccio ma con il vostro supporto è molto più bello farlo ed ha molta più soddisfazione e potete entrare nel podcast in due maniere la prima con la dichiarazione di indipendenza l'avete già di appartenenza scusatemi l'avete già sentita durante la sigla mi mandate un bel vocale al mio account personale di Telegram Sensei Eugenio con un audio dove mi dite sono Gino Rossi e sono un pirata del karate e vi inserirò in puntata oppure le vostre domande sia tramite vocale che se preferite in forma scritta e io risponderò sempre durante la puntata oltre a questo i pirati del karate hanno una meravigliosa newsletter dove venite aggiornati vi permette di essere aggiornati sempre su tutto quello che succede sulle pubblicazioni adesso riprendo anche a pubblicare i video del pirati del scusatemi dei dei katà sono rimasto un pelo indietro su quel progetto ma ritorno e tra l'altro da fine agosto ci saranno un sacco di cose sfiziose quindi io vi suggerirei vi suggerirei vivamente di andare a iscrivervi da joshinsui.com slash repubblica pirati come sempre tutti i link sono in descrizione alla puntata ok e poi sempre per chi vuole approfondire e per chi vuole aiutarmi a sostenere questi progetti beh esiste una meravigliosa enciclopedia online del karate shatokan con la sua accademia online che vi permette o di approfondire in maniera dettagliata gli aspetti tecnici della disciplina e anche qualcosina di più oppure proprio di seguire un percorso di formazione che parte dalla cintura bianca e pian piano vi porta alla cintura nera è una roba un po' più complicata di quello che vi ho detto qua quindi se siete interessati andate a dare un'occhiata su dojo shinsui.com slash karatepedia tra l'altro potete provarla gratuitamente per 15 giorni per vedere la qualità del materiale che ho prodotto e che sto continuando a produrre ci siamo detti tutto? cosa dice quartiermastro? uomini attenzione il capitano è sul ponte e allora possiamo iniziare direi proprio di sì vivere da karateka cosa significa vivere da karateka? sembra alle volte una roba un po' da invasati io vivo da karateka io prima di tutto sono un karateka e poi sono tutto il resto questo lo dicevo e lo dico spesso ancora io e quando lo dici la gente sgrana gli occhi e dice abbiamo trovato quello che o ho fumato qualcosa che forse era andato un po' male oppure non ci sta proprio con la testa ma invece no perché? perché il karate è una disciplina è un do e quello che noi impariamo in un do dovremmo portarcelo dietro durante la nostra quotidianità essere un karateka non significa solamente andare al dojo allenarsi impegnarsi durante gli allenamenti fare gli stage fare i seminari le gare a chi piace far le gare e cercare di perfezionarsi a livello tecnico essere un karateka è qualcosina di più per questo io spesso dico ai ragazzi un pochino più giovani un pochino più immaturi o a chi si riempie la bocca di frasi come per me il karate è la mia ragione di vita è come l'aria se non lo pratico non riesco a vivere ok va bene ma se vuoi essere un karateka se vuoi essere anche una cintura nera non ti basta fare questo ok non ti basta riempirti la bocca e andare a praticare ma devi comportarti come un karateka lo devi fare nella tua quotidianità ok devi farlo fuori dal dojo perché essere un karateka ha poco a che vedere con le abilità tecniche o con il nostro impegno durante gli allenamenti o con cose di questo tipo essere un karateka ha più a che vedere col nostro modo di comportarci e di vivere fuori dalle quattro mura del dojo e questo era molto chiaro a Funakoshi quando nel 1938 spero che la data sia giusta ho fatto un po' di ricerca se così non fosse mi raccomando cazziatemi fatemelo sapere scrisse il Nijukun quindi i 20 precetti del karate shotokan che sono bellissimi e esiste anche un libro sul Nijukun potete trovarlo edito dalle edizioni mediterranee aspettate forse riesco a beccarlo qua dietro un secondo aspetta che arrivo eccolo qua eccolo qua trovato e questo sempre per chi segue solo il podcast via audio e non guarda i meravigliosi video di youtube eccolo qua voilà si vede i 20 precetti del karate shotokan di Jikin Jikin non ho ancora capito come si pronuncia Jikin forse Funakoshi l'eredità spirituale del maestro questo libro è molto bello perché prende ogni singolo precetto e lo va a analizzare ok ci sono ci sono è un'analisi molto molto carina quindi andate a prenderlo e a leggerlo così abbiamo anche fatto pubblicità alle edizioni mediterranee aspetto poi un vostro obolo una donazione per sostenere il nostro progetto scherzi a parte in questi 20 precetti quindi 20 frasi molto brevi che racchiudono un po' quella che sono i comandamenti del karate perché o meglio del karateka perché alla fine questo sono proprio come i 10 comandamenti di per la religione cristiana e giudaica beh per noi adesso non li sto mettendo sullo stesso livello però l'idea sostanzialmente è quella per noi i 20 precetti sono i nostri comandamenti e fra questi 20 precetti ce ne sono due che secondo me sono davvero molto belli e molto importanti e che in effetti possono far sembrare la persona che li recita e li vive un po' invasata ma le cose non stanno così quali sono? primo il karate non si vive solo nel dojo secondo che a me piace tantissimo forse è quello più bello di tutti applica il karate a tutte le cose lì è la sua ineffabile bellezza cosa significano? ci proviamo? andiamo ad analizzarli un po'? Voi vi siete fatti un'idea? vi dico la mia poi se non vi piace scrivete dei commenti ok? o ancora meglio scrivetemi un'email che rispondo con più facilità se fosse eugenio chiocciola dojoshinsui.com il karate non si vive solo nel dojo perché? non vuol dire che usciamo dal dojo e iniziamo a picchiare a destra manca a sfidare gente perché siamo allenati dobbiamo far vedere quanto siamo terribili e cazzuti ma perché il karate do questo questa piccola parolina che è un buco nero di significato nel senso che è densissimo di significato che fu aggiunto proprio da Funakoshi fa tutta la differenza il karate do è una via di perfezionamento e di automiglioramento una via che ci insegna l'educazione che ci insegna il rispetto che ci insegna ad impegnarci che ci insegna lo spirito di sacrificio quella odiosa parola che ormai viene usata un sacco la resilienza la determinazione il dare l'esempio l'amore l'amore per i nostri compagni e per i nostri insegnanti perché loro ci donano qualcosa ok bene tutti questi meravigliosi principi vanno portati fuori dalle quattro mura è un po' come permettetemi il confronto forse azzardato ma credo che renda molto bene l'idea è un po' come chi si definisce cristiano o cattolico facciamo cattolico ancora meglio e tutto quello che fa è andare in chiesa la domenica è alle feste comandate e poi fuori dalla chiesa bestemmia è maleducato non ha la ben che minima idea di cosa sia l'empatia non aiuta il prossimo insomma non è coerente con tutto quello che il cristianesimo e il cattolicesimo prevederebbero e qua è un po' la stessa cosa è come se noi quando andiamo in palestra quando andiamo al dojo vestiamo il costume in questo caso del karateka e ci comportiamo come i sacri precetti ci dicono quindi siamo rispettosi dell'insegnante siamo rispettosi del compagno cerchiamo di dare il massimo impariamo a stringere i denti eccetera 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 ma poi quando usciamo da lì siamo maleducati non rispettiamo gli altri non rispettiamo le regole sociali quando c'è qualcosa di difficile mogliamo subito il colpo ci lamentiamo e via dicendo ok questo vuol dire che il karate non si vive solo nel dojo vivere il karate essere un karateka vivere da karateka non significa pensare al karate ogni tre minuti non significa avere il karate come unica ragione di vita come la propria e solo la unica ragione di vita sarebbe una vita molto triste ragazzi sarebbe un qualcosa depaupererebbe la nostra vita la impoverirebbe in maniera impressionante perché avremo solo quello e invece la nostra vita deve essere ricca deve essere piena di stimoli di passioni dobbiamo cercare di fare esperienze e vivere più che possiamo ma viverlo da karateka quindi portare tutto quello che il karate ci insegna di buono anche fuori dal dojo fuori dalle esperienze di quelle quattro mura e questo è molto importante e a questo principio strizza l'occhio proprio l'altro principio di cui vi ho parlato all'inizio ovvero applica il karate a tutte le cose lì è la sua ineffabile bellezza perché perché se noi impariamo a portare il karate fuori dal dojo e applicare il karate do fuori dal dojo a tutte le cose beh ragazzi io credo non è facile io credo che la nostra vita potrebbe migliorare molto perché beh perché vorrebbe dire per esempio che noi ci gusteremmo un bel piatto di pasta con lo zanshin cosa vuol dire questo e ci mettiamo lì con la faccia seria oh e alla gime partiamo con la forchetta e via dicendo no vuol dire che probabilmente saremo concentrati in quello che stiamo facendo in quel momento quindi saremo concentrati sul piatto di pasta e non ci faremo distrarre da i social dal telefonino dalla televisione eccetera eccetera ma saremmo lì in quel momento mentre mangiamo il piatto di pasta nel famoso qui ed ora e vi posso garantire che avrebbe tutto un altro sapore stessa cosa quando facciamo le pulizie di casa ma se noi cerchiamo la perfezione tecnica ok noi cerchiamo di fare lo tsuki meglio che si può o il gheri o lo zenkutsu dachi o il kata ma perché non facciamo la stessa cosa quando dobbiamo pulire casa cercando di fare il meglio che possiamo o mentre facciamo i compiti o un qualunque lavoro io l'ho sempre detto il più grande dono per me è stato che a me ha fatto il karate scusatemi non è stato tanto l'autostima tutte queste cose qua che sotto certi punti di vista in realtà non so neanche quanto mi abbia aiutato magari un giorno ci faccio una puntata una puntata sopra il karate mi ha dato degli strumenti per crearmi l'autostima ok quello sì ma non non mi ha aiutato molto nel fare nell'avere autostima però il più grande dono che mi ha fatto è stato quello di darmi una forma mentis che mi ha permesso di approcciarmi a sfide difficoltà e esperienze in maniera molto differente rispetto a altre persone che conosco quindi nel momento in cui magari mi trovo davanti a una difficoltà lì viene fuori l'invasato karateka mi ricordo applica il karate a tutte le cose cosa dice il ninja kun che è quando si rinuncia che le difficoltà ci pigliano a calci nel sedere e quindi si rinuncia no si va avanti usquadad finem ok oppure durante un come si dice un scusate non mi viene il termine un'esperienza va bene un'esperienza generale diciamo così c'è la possibilità chi viene volontario nei corsi chi è che ci prova chi è che vuol fare questo io una volta ero sempre nascosto e invece grazie al karate ho capito che quella è un'occasione per fare pratica per mettermi in gioco per crescere e per cui mi ci butto a pesce magari faccio una figuraccia ma mi ci butto a pesce e così via questo significa applicare portare il karate fuori dal dojo e applicarlo a tutte le cose e in effetti beh la vita cambia un po' e voi cambiate agli occhi di chi vive con voi ripeto non è un atteggiamento da invasato è cercare di prendere quello di molto positivo che questa disciplina ci dà e di portarlo là fuori in un po' tutto quello che facciamo alle volte è difficile alle volte non ce la facciamo ma io in primis ok io sono sempre il ciabattino con le scarpe rotte non voglio mettermi qui sul trono davanti al microfono e dirvi oh io faccio queste cose voi invece non le fate siete delle merde no è molto molto complicato perché perché la vita soprattutto oggi non è quella del 1930 sì lì c'erano un po' di cazzi storici ecco magari la seconda guerra mondiale che si avvicinava la prima che aveva lasciato un bello stralcico insomma non penso che fosse semplice ma comunque non era la vita di oggi non è la vita frenetica con i ritmi pressanti e stressanti che abbiamo non siamo continuamente distratti continuamente online insomma non è facile e poi c'è la famiglia c'è il lavoro ci sono tante cose che ci bombardano da ogni angolo e per cui non è facile ma provarci non ci costa niente no e allora cosa dovrebbe portare o perlomeno cosa porto io fuori dal dojo cosa cerco di portare io fuori dal dojo in maniera tale da far sì che possa applicare il karate a tutte le cose è prima di tutto l'educazione merce rara ormai l'educazione e la creanza boh cosa sono un karateka il karate è educazione ok e il karate è dare l'esempio per far sì che le persone diventino più educate o meglio è seguire la creanza avere creanza e tramite la creanza cercare di dar vita a un mondo dove ci sia più rispetto più comprensione più educazione appunto è altruismo quindi è magari sacrificarsi qualche volta per aiutare qualcuno o fare un passettino indietro andare un po' più lenti cercare nei limiti del possibile di aiutare gli altri è spirito di sacrificio perché spesso per potersi allenare devi sacrificare altro devi mettere da parte altro devi imparare a stringere i denti devi soffrire un po' è determinazione vuol dire che non ti fermi mai anche quando o perlomeno fai tutto il possibile per non fermarti mai anche quando il gioco diciamo si fa molto duro tu stringi i denti e vai avanti il karate è caparbietà cioè decidere che se quello è il tuo obiettivo o fosse a te state ma ci arriverai e non ci sarà niente nessuno che ti potrà mai fermare e non importa quanto tempo ci dovrai impiegare ma ci arriverai ok occhio soltanto a non farlo diventare testardaggine quindi occhio soltanto a ricordarvi che alle volte bisogna fare un passo indietro e chiedersi se quell'obiettivo vale tutto quello che stiamo facendo coraggio perché mettersi davanti a un avversario combattere mettersi davanti allo specchio per scoprirsi e conoscerci è coraggio è amore perché senza l'amore non possiamo praticare questa disciplina amore per i nostri allievi a cui facciamo cerchiamo di dare tutto il possibile tutto quello che a noi hanno dato e anche qualcosina di più se riusciamo perché il nostro scopo è farli diventare più bravi di noi è amore per i nostri compagni perché quando ci alleniamo con loro dobbiamo rispettarli cercare di preservarli di salvaguardarli di non fargli male volutamente e anche perché loro ci danno la possibilità di evolverci di crescere di fare qualche passettino in più e poi è esempio io devo comportarmi così perché sono anzi io voglio comportarmi così perché sarò un esempio per le persone che mi conoscono per le persone con cui verrò a contatto e con l'esempio io posso educare e quindi cercare di fare un passettino in più per creare un mondo migliore questo secondo me significa vivere da karateka e questo secondo me vuol dire portare il karate fuori dal dojo e applicarlo a tutte le cose e non ha niente a che vedere con le abilità tecniche con il numero di allenamenti che fate con quanto riuscite ad andare al dojo o con quanto riuscite a tirare durante gli allenamenti e neanche con quante tavolette spaccate con il vostro mignolo no a che vedere con il tipo di persona che siete allora io vi invito sperando che lo facciate perché se lo facessimo tutti sarebbe credo davvero un mondo un po' migliore vi invito a provare a essere un karateka non solo a essere presenti nel dojo a riempirvi la bocca con delle parole molto poetiche ma spesso vuote ma a dimostrarlo nel vostro modo di vivere e direi che per oggi questa caldissima giornata di luglio il pistolotto è stato fatto andate in pace spero di avervi dato degli spunti di riflessione vi ricordo anche che io ho un canale telegram che è pensieri di sensei eugenio dove faccio dei pistolotti molto peggiori di questi quindi se volete andateci pure e iscrivetevi così potete ascoltarmi un po' più frequentemente per qualunque cosa ricordatevi tutti i link sono in descrizione e aspetto i vostri messaggi i vostri commenti e vi do appuntamento a sabato prossimo per un'altra puntata di Pirati del Karate e ricordatevi che il più grande atto di pirateria oggi è la condivisione della conoscenza un abbraccio e buona pratica a sabato prossimo ciao vuoi unirti alla repubblica indipendente dei pirati del Karate vai su dojoshinsui.com slash repubblica pirati a sabato prossimo